Il mazzo della settimana Eccoci qua con il nuovo appuntamento dedicato al mazzo della settimana di Yu-Gi-Oh! E allora, e allora, che mazzo c'è oggi? Maddo, maddo! Veramente, veramente una figata pazzesca Ho letto il titolo, il titolo, il nome del mazzo poco fa Un tuffo al cuore Sì, abbiamo, grazie alla nuova Banned List In vigore da pochi giorni a questa parte Oggi il 19 di settembre 2020 Il Deck Monarch 2020 E allora, andiamo a vederci la lista del nostro mazzo Partiamo, come sempre, dal Main Deck Ed abbiamo Eder, il Monarca Celeste, in 3x Erebus, il Monarca del Mondo Sotterraneo, in 3x Demone della Maestà, in 1x Curaz, il Monarca della Luce, in 1x Edea, Scudiero Celeste, in 3x Eidos, Scudiero del Mondo Sotterraneo, in 2x Mitra, tattatatata Bassallo del Tuono, 1x Anime dei Draghi, fantastica, in 3x Maga, illusione, apprendista in 1x A chiudere la parte dedicata alle carte mostro Carte magie del nostro mazzo Dominio dei veri monarchi Pardon Dominio dei veri monarchi 3x E qui Boss, perse la cena Poi, la novità Panteismo dei monarchi Dei monarchi, pardon 3x, non ce la faccio a dirlo Tenacia dei monarchi 3x Ritorno dei monarchi 3x Tempesta avanzata dei monarchi 3x 1x1 1x Terraformare 1x Sepoltura sciocca di beni 1x Rinforzi dell'esercito 1x Le carte trappola Il 2x Il primordiale monarca E 1x Espansione dei monarchi A chiudere la lista del nostro main deck Passiamo all'extra deck Che non c'è! Non c'è l'extra deck! La bomba di questo mazzo! Senza extra deck! Senza extra deck! Del resto, quando uscirono i monarchi L'extra deck non è che c'era già Ma non è che era il... Proprio proprio utilizzatissimo E allora signor cameraman ha detto Abbiamo il 3x di panteismo Che è tornato al 3x E allora facciamolo senza extra deck E qui voglio i commenti di tutti Vi piace senza extra deck? Oppure lo preferisci con l'extra deck? Fai tu la lista Non c'è problema Scrivilo nei commenti Qua sotto il video E allora Anche per oggi Abbiamo terminato Come sempre Se hai un'idea Se hai un'intuizione Se hai una modifica Qualsiasi cosa ti venga in mente Dedicata a questo mazzo Purchi sia costruttiva Scrivi il tuo commento E che dire che dire che dire Io ti do Vi do A tutti Appuntamento Al prossimo mazzo Della settimana And Good boy Ciao